A più dieci anni dalla crisi, il mondo è ripartito, l'Italia resta in affanno. Dieci anni fa, il mondo è stato scosso da una delle crisi economiche più gravi dalla Grande Depressione. La crisi finanziaria del 2008 ha avuto un impatto globale, portando a una contrazione economica, perdita di posti di lavoro e una serie di sfide finanziarie per molti paesi. Ora, a una decade di distanza, molte nazioni si sono riprese, ma l'Italia sembra ancora in affanno. La crisi del 2008, una rievocazione. La crisi finanziaria del 2008 è stata innescata dal crollo del mercato immobiliare negli Stati Uniti, che ha avuto effetti a catena a livello globale. I mercati finanziari sono crollati, le banche hanno dovuto affrontare gravi perdite, e molte imprese sono fallite. In molti paesi, le economie si sono contratte rapidamente, causando un aumento della disoccupazione e una diminuzione della fiducia dei consumatori. La ripresa globale. Nel corso degli anni successivi, molte nazioni hanno intrapreso misure per affrontare la crisi. Le banche centrali hanno abbassato i tassi di interesse e implementato politiche monetarie accomodanti. Inoltre, i governi hanno lanciato programmi di stimolo economico per sostenere la crescita e creare occupazione. Queste misure hanno contribuito a ripristinare la fiducia nei mercati finanziari e a rilanciare l'attività economica in molte parti del mondo. L'Italia. Una ripresa lenta e problematica. Nonostante i progressi globali, l'Italia ha lottato per raggiungere una ripresa economica significativa. Mentre alcuni indicatori economici mostrano segni di miglioramento, come un tasso di disoccupazione in diminuzione, il paese continua a confrontarsi con una serie di sfide. Una delle sfide principali dell'Italia è la sua alta percentuale di debito pubblico. Nel 2021, il debito pubblico italiano era superiore al 150% del suo prodotto interno lordo PIL, una delle cifre più alte in Europa. Questo livello di indebitamento pone una pressione costante sul bilancio del governo e limita la sua capacità di investire in infrastrutture e programmi di sviluppo. Inoltre, l'Italia è stata gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19, con un alto numero di casi ed eccessi. La crisi sanitaria ha avuto un impatto significativo sull'economia, con restrizioni e chiusure che hanno colpito settori chiave come il turismo e la ristorazione. La via per il futuro. Affrontare queste sfide richiederà una serie di misure coordinate. L'Italia deve concentrarsi sulla riduzione del suo debito pubblico e sulla promozione della crescita economica sostenibile. Questo potrebbe comportare riforme strutturali, investimenti in innovazione e sviluppo sostenibile e un maggiore impegno nella lotta contro la corruzione e l'evasione fiscale. Inoltre, la pandemia ha evidenziato l'importanza della resilienza economica e della diversificazione. L'Italia dovrebbe cercare di ridurre la sua dipendenza da settori vulnerabili come il turismo e promuovere l'innovazione e l'export in settori ad alta crescita. A dieci anni dalla crisi finanziaria del 2008, il mondo ha fatto passi da gigante nella sua ripresa economica. Ma per l'Italia, la strada verso la stabilità economica e la prosperità continua a essere una sfida. La volontà politica, le riforme efficaci e la collaborazione internazionale saranno fondamentali per superare le difficoltà e rilanciare l'Italia verso un futuro più luminoso.